Buon pomeriggio, ben trovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca, operazione antidroga della Polizia di Lanciano assieme a quella di Vasto e di Chieti con 16 ordinanze di custodia cautelare di cui 11 in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Lanciano Massimo Canosa e il blitz antidroga che è cominciato alle 5 con elicotteri a supporto di una ottantina di uomini che hanno battuto palmo a palmo l'area frentana. Allora sentiamo il servizio di Francesca Romana Testi. E' scattato questa mattina all'alba il blitz antidroga della Polizia di Lanciano che ha portato alla custodia cautelare di 16 persone di cui 11 in carcere e 5 ai domiciliari. Provvedimenti firmati dal GIP del Tribunale di Lanciano Massimo Canosa. 80 uomini della squadra mobile di Lanciano Vasto e Chieti coordinati da Francesco Costantini con l'ausilio anche di un elicottero e unità cinofile hanno battuto palmo a palmo il territorio frentano nella retata coordinata dalla Procura di Lanciano. Nel corso della conferenza stampa tenuta dal procuratore facente funzione Rosaria Vecchi sono stati forniti i dettagli dell'indagine che conta 34 indagati tutti appartenenti ad un'organizzazione criminale composta da romeni italiani. Un ruolo centrale avevano tre donne, una romena e due italiane che gestivano l'organizzazione dello spaccio e l'individuazione dei clienti. La droga arrivava dall'est Europa principalmente su autovetture che venivano continuamente cambiate così come le schede telefoniche utilizzate dai componenti. Le indagini sono state lunghe e complesse e portate avanti attraverso pedinamenti e intercettazioni telefoniche. Sempre nell'ambito delle indagini la polizia ha sequestrato due chili di cocaina di alta qualità e una serra con numerose piante di marijuana. Tutta destinata al mercato frentano. Il procuratore Rosaria Vecchi ha sottolineato come tra gli assuntori di cocaina a Lanciano siano in aumento i minorenni. Continuiamo con la cronaca. Sembrava una famiglia in vacanza. Nell'auto c'era uno sdrai, ombrellone, secchielli e borsa frigo ma sotto al sedile del conducente c'era anche un panetto di hashish dal peso di oltre un chilo. La sostanza, spacciata in dosi, avrebbe reso tra i 10 e i 15 mila euro. Il conducente dell'autovettura fermata dai finanzieri, un 25enne pugliese, è stato arrestato. Ovviamente il 25enne era tenuto sotto controllo da tempo, è stato accompagnato presso la casa circondareale di Chieti e ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il controllo rientra nell'ambito di quelli messi in campo dalla Guardia di Finanza per stroncare il traffico di stupefacenti. Andiamo avanti e adesso ci occupiamo di politica spostandoci a Teramo. È ancora in corso la seduta del Consiglio Comunale che deve discutere del bilancio tra i punti all'ordine del giorno. Come detto il documento finanziario, ci sono polemiche per i tagli al sociale, alla cultura e allo sport. Allora andiamo a sentire il servizio di Lisa Leuzzo. Il bilancio consuntivo della Comune di Teramo prevede un disavanzo tecnico complessivo di 22 milioni di euro a fronte dei 27 milioni del precedente. Si tratta di un disavanzo tecnico in quanto derivante dall'applicazione dei nuovi principi contabili, secondo i quali gli unici crediti che è possibile inserire nel documento contabile sono quelli certi, mentre non si possono più riportare i crediti che ragionevolmente si ritengono non più esigibili. In parole semplici, questo ha determinato che tanti residui, in particolare di opere pubbliche, siano stati eliminati al fine di rendere il bilancio aderente alle nuove regole. Pertanto dei 7 milioni ne sono stati recuperati solo 5, un ulteriore debito che aggraverà i conti del Comune l'anno prossimo. Un bilancio che probabilmente sarà comunque approvato dalla maggioranza, con l'astenzione di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale e della lista civica al centro per Teramo, quest'ultima definisce inappropriati i tagli allo sport e alla cultura. Parliamo di pochi contributi, 2, 3 mila, 5 mila euro, totale 30 mila euro. E' un taglio che non ha nessun significato di esistere, non penso che 30 mila euro siano importanti per rimettere e risanare il bilancio comunale. Quindi è un taglio che non condivido, dove anche poiché non si è tenuto il rispetto delle associazioni, in quanto non sono stati nemmeno avvertiti di questo taglio, quindi hanno visto così legge sul giornale questa situazione così economica. Io dico al sindaco che non è giusto, ma più che altro perché ci sono rischi che queste associazioni facciano cultura in altri comuni, quindi la cultura del Teramo è zero. Anche poi per lo sport. Lo sport c'erano alcune agevolazioni che avevo io portato quando ero assessore, di cui appunto si teneva molto del settore giovanile, quindi anche dall'abbattimento, per quanto riguarda l'uso degli spugliatoi, appunto l'uso o non dell'impianto. Avevo agevolazioni che sono state eliminate, addirittura appunto diminuite come percentuali di abbattimento e quindi appunto non condivido questa situazione e anche il fatto che non prevede nel bilancio risorse per il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Anche lì vorrei chiedere perché quando non abbiamo preso l'impegno in consiglio con l'associazione di disabili. Quindi credo che sia questo appunto il motivo che mi porta ad essere contrario con il bilancio. La seduta del Consiglio Comunale di Teramo è stata appena sospesa e riprenderà alle ore 16 e proprio poco fa è stato approvato il bilancio con 17 voti a favore. Andiamo avanti. Visita istituzionale a Chieti del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Sandro Gozzi, che ha incontrato gli studenti dell'Università Teatina per parlare di Europa e di formazione nel convegno intitolato Generazione Erasmus al Potere. Generazione Erasmus al Potere è una riflessione che vuole sprunare i giovani studenti italiani ad affrontare la sfida dell'Europa per creare più esperienza e formazione nel proprio percorso universitario per poi creare nuove storie di successo nella propria terra. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Sandro Gozzi, incontra gli studenti dell'Ateneo di Chieti. Noi vogliamo che i nostri giovani girino l'Europa, girino il mondo, ma che anche abbiano fiducia in un'Italia che deve continuare e tornare a dare delle opportunità. Mi piacerebbe anche che, oltre che fare rientrare dei cervelli dall'estero italiani, venissero anche dei cervelli stranieri in Italia. Ed è questo il senso delle riforme che il governo sta facendo e anche della scommessa sulla nuova politica della ricerca. Una visita istituzionale riferita anche al tanto atteso referendum costituzionale di ottobre. Uscire dall'immobilismo, uscire da una democrazia che non funziona, avere una democrazia che decide in tempi rapidi con leggi di qualità migliore, credo che questa sia una riforma che permette all'Italia di tornare a funzionare come gli italiani vogliono e permette al nostro governo e all'Italia di chiedere poi un cambiamento all'Unione Europea perché se cambiamo l'Italia saremo anche più forti per cambiare un'Europa che va assolutamente migliorata. In tempo di Europa è impossibile non pensare alla situazione di forte perplessità espressa dalla Gran Bretagna. Il Brexit diventa una riflessione che molte nazioni come la Grecia avevano già avanzato in precedenza. Nuovi equilibri e soprattutto la possibilità di ripercussioni indirette anche per gli stati UE. I danni economici io credo che siano limitati per l'Italia. Credo che la questione sarà una questione politica, nel senso che dovremmo subito uscire dallo status quo perché ci sarebbe un rischio di effetto domino che noi vogliamo assolutamente evitare. Io credo che se il Regno Unito uscisse sarebbe negativo per l'Unione Europea e sarebbe catastrofico per i britannici e spero che questo sia nella testa e nel cuore di tutti i britannici che andranno a votare. Adesso parliamo di economia a leggera ripresa nel Terramano per quanto riguarda l'occupazione e quanto è emerso durante la giornata dell'economia che si è svolta ieri presso la Camera di Commercio di Terramo. Elisa Leuzzo. La ripresa economica in Abruzzo rimane un sogno? No, la ripresa economica in Abruzzo e nella provincia di Terramo c'è, solamente che sono segnali ancora troppo fragili, ancora troppo poco consistenti e il quadro invece di riferimento economico e sociale è un quadro drammatico. La provincia di Terramo ha fatto delle cose strepitose nel passato, le microimbrese come le formiche portano i chicchi di grano nel granaio, sembra cosa di niente, sembrano cose piccole e invece negli anni questa laboriosità, questa capacità creativa delle microimbrese hanno creato un miracolo nella provincia di Terramo e abbiamo però eccessivamente mitizzato questo miracolo, non ci siamo accorti, di un cambiamento e di una crisi che non è uguale a quelle che hanno preceduto il nostro territorio. E' una crisi diversa, io dico quasi sempre le stesse cose perché sono delle verità, ossia questa crisi è diversa rispetto al passato nella enormità del cambiamento e nella velocità del cambiamento. Ecco, questa è una rivoluzione quella attuale di cui noi dobbiamo prendere atto. Anche qui dico le stesse cose, sapendo sapientemente miscialare l'orgoglio delle cose grandi che siamo riusciti a fare nel recente passato, risollevando momenti drammatici dell'economia e della nostra società, quindi orgoglio del passato, umiltà nel riconoscere che noi ci siamo seduti e in questi ultimi 30 anni soprattutto ci siamo rilassati eccessivamente e adesso stiamo pagando il conto. Non abbiamo preso atto per intero, compiutamente di quello che c'era da fare. Che cosa c'è da fare? C'è tradottare un cambiamento, un cambiamento grande. La buona semente. E dunque questi i consigli del Presidente della Camera di Commercio di Teramo, Gian Domenico Di Sante. Andiamo avanti. Come cambiano le banche? Questo è il tema del convegno organizzato dalla Will Abruzzo a Montesilvano, ospite Roberto Telatine della Willca Will Nazionale. Paolo Renzetti. Come cambia il mondo delle banche? È un periodo difficile anche a livello bancario. In questo convegno oggi a Montesilvano si parla di questo, ma si parla anche del Bailin e di come questo mondo si trasforma. Il mondo bancario si sta trasformando perché sta cambiando anche la società. Cambiano le esigenze dei clienti, l'utilizzo della tecnologia cambia la vita di tutti i giorni. Quindi anche il sistema bancario si adegua, come è successo per l'industria, per il mondo dei servizi. E ogni cambiamento ha dei problemi. Nel mondo bancario l'elemento fondamentale è la fiducia. Il Bailin è un elemento che ha cambiato il rapporto tra cliente e banca. Il rapporto di fiducia deve essere migliorato sicuramente. È compito di tutti coloro che lavorano nel mondo delle banche, dipendenti, manager, gli stessi clienti, lavorare affinché questo elemento di fiducia sia fondamentale. E poi sicuramente cambieranno i modi di operare, cambierà il modo di relazionarsi con la banca, più banca online, forse meno filiali. Credo che bisogna ricostruire un rapporto e quindi l'educazione finanziaria di cui spesso si parla è un elemento importante affinché i clienti siano consapevoli. E anche gli operatori bancari sappiano che non hanno degli sproveduti, ma delle persone che effettivamente conoscono. Quindi chi più sa c'è minore possibilità che succedano ancora situazioni spiacevoli come il Bailin che ha portato a questi grossi problemi in Abruzzo, ad esempio, con Carichietti. Andiamo all'Aquila adesso. Comitati e associazioni ambientaliste esultano dopo il parere negativo del Consiglio Comunale al progetto di modifica alla viabilità della variante sud del capoluogo. Nuova importante vittoria dei comitati riuniti, delle associazioni e dei gruppi civici che da mesi si oppongono in modo costruttivo all'ipotesi di tracciato ANAS prescelto quale l'otto C di variante sud. Dopo il risultato epocale, unico in Abruzzo ottenuto presso il comitato Via, che ha indetto l'inchiesta pubblica, i comitati e le associazioni plaudono l'importante risultato ottenuto presso il Consiglio Comunale dell'Aquila che, riunito ieri, all'unanimità ha votato la mozione depositata dai consiglieri comunali Periglie e Massocco e sottoscritta da numerosi consiglieri di maggioranza e opposizione che in sostanza ribadisce la netta contrarietà a tutte le ipotesi di variante sinora proposte dall'ANAS e promuove e venga costruito un reale processo partecipativo che conduca a un'effettiva co-progettazione del tracciato con le comunità locali attraverso metodi codificati di partecipazione. Con questo passaggio si segna un epocale cambio di marcia nelle aule del Consiglio Comunale. I consiglieri di maggioranza e opposizione decidono in sostanza all'unanimità di superare le vecchie logiche dell'emergenza impositiva e contraria a ogni normativa comunitaria che richiedono invece per questo genere di opere infrastrutturali così importanti un reale coinvolgimento delle comunità locali attraverso un'attenta valutazione di impatto sociale e ambientale supportate da una valutazione ambientale strategica che sappia analizzare l'opera, calandra nel contesto economico, culturale e sociale specifico nei territori coinvolti dell'intervento rispondendo realmente attraverso una pianificazione integrata e negoziata ai fabbisogni delle popolazioni locali nel rispetto e nella tutela dell'ambiente e dei siti di interesse archeologico e storico-culturale. I comitati invitano ora il Sindaco Cialenti a rispettare la volontà espressa all'unanimità del Consiglio perché questa sia correttamente rappresentata nei prossimi tavoli tecnici con il Cipe, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione e l'ANAS. Più nel dettaglio si chiede che il processo partecipativo sia di fatto regolamentato come indicato dai protocolli internazionali e prescritto dalle normative vigenti e guidato da un'attenta valutazione ambientale e sociale come giustamente sottolineato e messa a verbale durante il dibattito consigliare dal consigliere di maggioranza Enrico Perilli. Adesso torniamo a Teramo. L'ex amministratore delegato di Teramo Lavoro, la società in house della provincia, che era accusato di dichiarazione infedele per il mancato versamento dell'IVA durante la gestione della società, il giorno dopo la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, chiama a raccolta la stampa con una richiesta d'aiuto. Sentiamo. Io ho convocato la stampa per chiedervi aiuto perché adesso io comincerò a chiedere perché è accaduto tutto questo su di me? perché ho subito già due processi per accuse basate su accuse diffamanti, infamanti su cui ho avuto come professionista e imprenditore dei danni enormi e incalcolabili. Vi chiedo aiuto per scoprire, vi chiedo di fare inchiesta. Io sono pronto a dare tutta la documentazione possibile su cose su cui non ho parlato prima perché, come ho detto dall'inizio, ho profonda fiducia nella giustizia, aspetto prima di chiarire i miei aspetti. Come sapete resta solo una piccolissima cosa che quella condanna per peculato, anche questa su un'accusa totalmente assurda e bizzarra soprattutto perché non era nei capi di imputazione del processo. Quindi è un'accusa che è scaturita ex novo nella sentenza, incomprensibile, per chiarire la quale ci sarà bisogno solo di depositare un documento che abbiamo già depositato. Vi chiedo di fare inchiesta per capire come mai sulle cose di cui io dal 2009, e ne cito due, appena messo piede a Teramo ho segnalato, fatto relazioni e denunciato anche alla Procura Repubblica e le cose riguardano due, sono due. Una riguarda le procedure di gestione che la Regione ha fatto tramite le province di tutto il Fondo Sociale Europeo degli ultimi anni che ha portato, se non lo sapete informatevi, altrimenti vi do tutto io, a decertificare 40 milioni di euro, cioè il totale, no Teramo Lavoro, il totale delle risorse del Fondo Sociale gestite dalle quattro province abruzzese. Io l'ho detto all'assessore regionale fin dal 2009 e l'ho scritto alla provincia. L'altra cosa riguarda le procedure di avviamento a selezione pubblica gestite dalla provincia. In particolare mi riferisco ai disabili, voi avete letto, in recente anche voi avete pubblicizzato soprattutto una revoca di un avviamento anche secondo me totalmente illegittimo che si basa purtroppo su un regolamento che la provincia ha otto da quasi dieci anni. Ed ora ci occupiamo della donazione di sangue nella nostra regione. Questa mattina nella sede del Consiglio regionale d'Abruzzo si è parlato proprio di donare il sangue, di come cambierà il servizio. Sentiamo. Assessore Paolucci ci sono novità per quanto riguarda la donazione del sangue nella nostra regione. Cosa cambierà? Ma intanto purtroppo va registrato sia a livello nazionale che regionale una flessione ed è un momento importante la giornata mondiale dedicata alla donazione del sangue per tornare a sottolineare, far percepire e comunicare quanto sia importante. Allo stesso tempo noi oggi come Governo regionale lanciamo una serie di iniziative che riguardano un piano della comunicazione trienniale solido, un piano della prevenzione anche questo triennale che si dota in qualche modo di strumenti innovativi anche significativi per il campo nazionale per quanto riguarda questa regione e un ulteriore piano, quello strategico, il piano di riqualificazione ma che insieme coinvolge le quattro asle che prevede anche in questo caso una serie di strumenti per arrivare a certi tipi di finalità e soprattutto appunto per incrementare la donazione del sangue con modalità nuove. Direttore, il messaggio è sempre quello, c'è sempre più bisogno di sangue oggi? Assolutamente sì anche proprio perché dagli ultimi dati recenti che abbiamo elaborato la domanda di sangue in Abruzzo aumenta quindi vuol dire che la sanità in Abruzzo comunque cresce con il consumo del sangue si fanno interventi più complessi quindi c'è ancora più bisogno di sangue e di farmaci plasma derivati farmaci che vengono prodotti dal plasma umano quindi anzi in questo settore devo dire che l'Abruzzo è tra le prime regioni in Italia però abbiamo appunto bisogno di rilanciare questo tema e di rafforzare anche l'organizzazione trasfusionale perché è da qui che poi nasce la salute dei nostri pazienti. L'amministrazione comunale di Pescara ha presentato lo spazio che ospiterà il primo co-working pubblico in città. Entro il 2016 sicuramente apriremo il primo co-working pubblico quindi uno spazio di lavoro condiviso dove appunto per lavoro condiviso non intendiamo semplicemente uno studio associato dove si affittano scrivanie ma proprio la possibilità di sprigionare una nuova economia l'economia della collaborazione dove attraverso appunto il lavorare assieme nello stesso posto nascano sinergie, collaborazioni e quindi anche una modalità nuova di lavorare. Per questo il Comune di Pescara ha investito e pensa di investire come innovazione sulle politiche attive del lavoro proprio sull'economia della collaborazione e sul lavoro condiviso. L'evento finale del progetto che è poi l'inizio dell'avvio dell'innovazione dell'amministrazione ci sarà venerdì con un grandissimo evento sulla sharing economy e l'economia della condivisione che realizzeremo all'aurum di Pescara verranno le maggiori realtà sia di sharing economy che di co-working di tutta Italia. Cito solo alcune Coab di Milano Mille Piani di Roma piuttosto come una delle più importanti piattaforme di social eating Gnammo saranno presenti saranno le istituzioni la giornata è organizzata insieme a Lancia Abruzzo che ha invitato tutti gli enti locali a partecipare della nostra regione e alla fine festeggeremo la chiusura del progetto con i 25 giovani promotori territoriali che l'hanno animato per un anno con un party finale allo stabilimento Balneare La Lampara. A Francavilla terminati in anticipo sulla tabella di marci i lavori di restyling e di ampliamento dei marciapiedi del ponte sul fiume Alento che adesso consente l'attraversamento ai piedoni in maniera sicura. È stato riaperto al traffico ieri pomeriggio con una quarantina di giorni di anticipo rispetto alla data di conclusione dei lavori fissata per fine luglio il ponte sul fiume Alento a Francavilla al Mare chiuso a fine marzo per i lavori di restyling e di ampliamento dei marciapiedi. Un ponte fondamentale per la viabilità del centro città in una posizione strategica perché sito sulla statale 16 nei pressi delle gallerie della variante Anas che si collega a Pescara. L'opera dal costo di 350 mila euro consentirà ai pedoni di attraversare il fiume in sicurezza. Questo ponte prima non aveva praticamente l'area pedonale, i marciapiedi quindi le persone per attraversarlo dovevano camminare al ridosso della carreggiata creando un notevole pericolo per l'incolumità. Era poco illuminato e quindi sono stati creati è stato allargato il ponte sono stati creati due comodi marciapiedi da due metri l'uno circa è stata rinnovata completamente l'illuminazione abbiamo inserito dei nuovi pali con un'illuminazione a led ed ecco che è stato reso più sicuro. Infatti questo è un progetto a piedi sicuri finanziato dalla regione Abruzzo che serve a eliminare appunto quelle zone pericolose per i pedoni nella città. E adesso apriamo la pagina dello sport con il calcio di serie B di serie B anzi dovremmo dire di serie A adesso in primo piano intervenuto telefonicamente alla trasmissione tutti convocati su Radio 24 l'allenatore del Pescara Massimo Oddo ha fatto il punto sulla sua permanenza in Biancazzurro e ha dato un consiglio per il futuro calcistico al gioiellino del Pescara Gianluca La Padula ascoltiamo Per quanto mi riguarda io insomma ho sempre detto che il mio sogno era portare questa scuola in serie A la scuola della mia città e il mio secondo sogno è quello di allenarla in serie A ovviamente come tutti gli allenatori tutti quanti vorrebbero avere delle garanzie e delle certezze in questo momento credo che l'unica maniera per poter continuare un discorso per provare a salvarsi in serie A è quello di cercare di mantenere i migliori elementi sul piatto della bilancia certamente abbiamo messo il fatto che probabilmente potremmo perdere la Padula però per quanto riguarda tutti gli altri mi piacerebbe mantenerli lui viene da due grandissime stagioni ognuno in C uno in B adesso si deve confermare in A e per confermarti devi avere le chance di poterti confermare quindi è indubbio che lui debba scegliere in base a chi ti dà questo tipo di continuità certo nessuno ti garantisce il posto però ci sono squadre che puntano di più su di te sono squadre in cui ti mettono in concorrenza con altri sarà una scelta dura però il consiglio che gli posso dare io è quello di innanzitutto parlare con l'allenatore che ti ha che ti vuole avere perché credo che parlare con l'allenatore ti schiarisce bene le idee ma lui è pronto per qualunque palcoscenico in Serie A o c'è ancora bisogno di un po' di lavoro anche se non è giovanissimo no ma qualitativamente se noi andiamo a scomporre il ragazzo lui è un giornatore di alto livello di alto profilo non di basso profilo di medio profilo è sicuramente la grande squadra poi però c'è l'impatto con la Serie A questo è sempre comunque un punto interrogativo andiamo avanti scendiamo in Lega Pro ieri pomeriggio summit della dirigenza del Teramo con alcuni dei calciatori sotto contratto gli addi di Scipioni e Cenciarelli sono praticamente certi da valutare invece le posizioni di Amadio Speranza e Tonti Jacopo Forcella giornata di consultazioni ieri per la dirigenza del Teramo impegnata con i rinnovi e con gli eventuali adeguamenti dei giocatori attualmente in organico Scipioni e Cenciarelli andranno certamente via da loro è stata una richiesta specifica e abbandoneranno il bianco rosso da vedere se lo faranno direzione latina dove ieri si è casato Vincenzo Ivarini quello che è venuto fuori dall'incontro del pomeriggio è che Caidi di Paolo Antonio e Petrella sembrano convinti del nuovo progetto Zauli per quanto riguarda Tonti la sua permanenza è ancora in dubbio ma non dovrebbe essere in ardi comunque nel caso a sostituirlo le attenzioni però erano puntate su Amadio e Speranza due che nelle ultime stagioni hanno rappresentato l'asse portante di difesa e centrocampo dopo il colloquio quello che sembra essere più vicino a restare a Teramo sembra ma il condizionale a questo punto è davvero d'obbligo proprio il capitano bianco rosso con Amadio che invece sarebbe più perplesso e avrebbe probabilmente voglia di cambiare aria tornando magari in Terrapontina non ad Aprilia ma in Nerazzurro per quella che sarebbe l'opportunità di misurarsi con il campionato di Serie B davanti Guidone non convince granché anche se la punta si è appena liberata dal Sant'Arcangelo Campitelli non ha messo paletti al direttore sportivo e all'allenatore chiede solo di rinforzare adeguatamente il reparto avanzato un'idea possibile Antonio Croce che in questa stagione ha realizzato 13 reti compreso il play-out nel campionato di Lega Pro Gironici a Monopoli in Abruzzo ha giocato con Cologna Paese e Celano e il lupo potrebbe fare da interlocutore privilegiato La programmazione della prossima stagione dell'Aquila Calcio e siamo in Serie D passa dalla ricapitalizzazione che avverrà nella giornata di domani dettagli nel servizio di Giorgio Alessandri Domani l'Aquila Calcio ricapitalizzerà davanti al notaio questa è la decisione presa nel corso della riunione di ieri tra i soci si parla di circa 400 mila euro per finire la stagione e cominciare a programmare già la prossima non era presente Davide Iannini che dovrebbe diventare il nuovo socio domani ad ogni modo dinanzi al notaio si capirà di più 400 mila euro che si aggiungono ai 150 mila già deliberati un passaggio fondamentale per riprogrammare e ridefinire i nuovi assetti societari i tifosi chiedono però a gran voce delle novità dal punto di vista tecnico che ad oggi non ci sono mentre molte squadre ad esempio hanno già scelto il nome del prossimo allenatore evidentemente la società sta sondando il terreno prima di formare la squadra anche per valutare un possibile ripescaggio ma su questo fronte c'è da dire che le speranze sono ridotte davvero all'omicino per ora due le incognite più grandi la scelta del nuovo allenatore e la posizione del DS Alessandro Battisti ancora non chiarita e con due anni ancora di contratto si è parlato di Meco Monaco sulla panchina aquilana ma per ora si tratta solo di rumors di voci insomma non confermate dalla società intanto perché quello che riguarda lo stadio di Acquasanta ieri mattina è arrivata la firma del contratto per l'installazione delle telecamere la ditta che ha vinto l'appalto la SAIS SRL oggi ha iniziato i lavori e dentro 28 giorni dovrà consegnarli al comune è tutto per quanto riguarda questa prima edizione del TG6 vi ricordo la notizia con la quale abbiamo aperto il giornale il Maxi Blitz antidroga a Lanciano 16 gli arresti 11 in carcere 5 le custodie cautelari un'indagine che riguarda 34 persone e sono stati sequestrati 2 kg di cocaina e una serra con moltissime piante di marijuana per quanto riguarda le prossime edizioni del TG6 sono alle 19 e alle 23 i nostri servizi sono disponibili sempre sul sito www.tv6.it e sulla nostra pagina YouTube grazie per averci seguito fino ad ora vi auguro un buon proseguimento di giornata grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito